Oh ma là non c'è nessuno. Non c'è nessuno. No, c'è nessuno. Vediamo gli spazi di un prototipo. Qui si entra e qui si rimane. Però figo c'è l'acchiglio bascolante, mi interessa questa cosa. Per dormire così? Ti appoggi con la schiena, prendi la posizione di bolina, se ti appoggi già ti viene sotto. Buonanotte. Perfetto. Ti sta bene, sì. Altrimenti ti infili nella cucetta laterale. No, lì proprio con Nicolo. Eh sì, puoi prendere la scorsa. E allora Franco cosa dici? Ci siamo, ci siamo, sono già a buon punto. Vedi qui i veri regatanti che puliscono la carina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tantacolidato! Allora, adesso vi faccio fare un tour nella chiglia! Esatto, perché il moto che possiamo fare dentro è scritto al dimostrazione! Andiamo a vedere! Allora, adesso siamo in Molina, quindi abbiamo tirato sulla chiglia. Vi faccio vedere! Eccola lì! Ci vediamo l'acqua! Questa è la chiglia bassa girata! Eccola di lato! Cosa? Cosa? Questa è la chiglia di onde è in Guia. Cosa? 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 Eccola? Cosa? Cosa? La boa, l'abbiamo passata e ci prepariamo per la pirata. La prossima è 37.7. La prossima boa è 37.7. La prossima è 37.7. La prossima è 37.7. La prossima è 38.7. La prossima è 36.8. La prossima è 35.7. Grazie a tutti. 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 E poi le armi da bonaccia. Le armi da bonaccia. Arrivati a Fano, una bella veleggiata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.